Chiamare mancetta il ponte è un po' un eufemismo, diciamo, però siamo convinti che lei sotto sotto la pensa come noi, che questo ponte sullo stretto è tecnicamente azzardato, è economicamente avventato, è anche strategicamente infondato, lo ha detto lei, nel nodo della connessione tra alta velocità e sud, c'è prima da affrontare il problema di come arrivare al Reggio Calabria e poi c'è anche il problema di come muoversi in Sicilia, visto che i collegamenti autostradali e ferroviari sono tra i peggiori che abbiamo in Italia. Di conseguenza andare a pensare come attraversare lo stretto è veramente l'ultima cosa a cui andare a pensare e noi ci auguriamo che questo intendimento venga posticipato sine die e che sia soltanto un ricorrente chiacchiericcio tipico dei politicanti. Grazie. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3, 2526, dei deputati Rampelli ed altri concernenti intendimenti del Governo in ordine alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Il deputato Totaro ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Ha un minuto, onorevole. Sì, Ministro. Noi abbiamo assistito in questi giorni alle esternazioni davanti a Impregiro del Presidente del Consiglio Renzi che ha detto appunto qualcosa di diverso da quello che ha affermato lei oggi in quest'Aula e nei giorni scorsi sui giornali. Cioè ha parlato del ponte sullo stretto come di una cosa importantissima e quindi da realizzare. Ne ha parlato in termini perentori. Quindi poi abbiamo assistito alle sue, in un certo senso, prese di distanza. Oggi abbiamo ascoltato quello che ha detto qui in quest'Aula. Ecco, noi volevamo una parola chiarificatrice su questo tema perché riteniamo, a differenza di altri in quest'Aula che fanno del disfattismo e della sconclusionatezza, diciamo, la loro attività politica principale, e noi riteniamo che questa sia una infrastruttura importante in un contesto ovviamente generale in cui ci devono essere le infrastrutture di cui tutti parliamo, che però non sono state realizzate non perché si è fatto lo stretto, ma perché non sono state, il ponte sullo stretto, ma perché non sono state proprio realizzate. Quindi mancano ai cittadini. Grazie. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Rio ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Sì, grazie Presidente, grazie onorevole. No, io non credo che abbiamo opinioni differenti, anzi sono sicuro di non avere opinioni differenti dal Presidente del Consiglio e sono sicuro che voi avete compreso benissimo le mie parole che non sono affatto evasive. Io ho detto che su alcuni progetti, sulle tre delle quattro direttrici, la Adriatica, la Napoli-Bari e l'alta velocità in Sicilia abbiamo investito, emesso risorse e aperto cantieri. Sulla quarta direttrice stiamo studiando uno studio di fattibilità per investire il minimo di risorse e ottenere il massimo risultato per portare l'alta velocità dentro a quello che, ripeto, è un corridoio europeo deciso dall'Europa. Questo è semplicissimo, è comprensibilissimo. Se mi chiedete se siamo pronti a spiegarvi nel dettaglio i costi, la risposta è no, non siamo pronti.